Le strade che collegano l'altopiano di Asiago con la pianura sono frequentatissime, specialmente in queste settimane estive. Le code sono, per fortuna del comparto turistico, quasi all'ordine del giorno, ma chi si deve spostare per studio o per lavoro anche il resto dell'anno ha bisogno di arterie più scorrevoli e sicure. Abbiamo fatto degli interventi importanti sulla viabilità, abbiamo alcune aree dove ci sono dei rischi di incidenti come questi, delle curve a gomito dove abbiamo impedito la realizzazione di muretti di cemento, per intendersi, proprio per evitare che si verifichino questi rischi. Sono allo studio alcune soluzioni che rendano più fluida e sicura l'intera viabilità dell'altopiano. Penso ad esempio nel tratto che da Trescheconca, cioè in cima al costo, porta al centro di Asiago. La vicina autostrada A31 è l'opera più moderna presente nel territorio, ma non basta. Però in cima, all'altopiano, vi dovrà fare una serie di interventi che possano permettere anche ai nostri residenti che vanno a lavorare in pianura di poter essere agevolati per evitare un percorso molto tortuoso che è quello da Trescheconca che porta ad Asiago.